Non vuole essere tirato per la giacchetta Cataldo Salerno, presidente della Core, sulla vicenda policlinico. Si smarca in un comunicato in cui ribadisce l'indipendenza dell'università rispetto alla diatriba che è nata traenne e caltanistetta sulla paternità del policlinico e sulla legittimità di collocazione. Vorrei invitare tutti a lasciare che l'università elabori e sviluppi in autonomia come deve accadere a tutte le università del mondo la propria politica accademia e la propria visione territoriale. Salerno così conferma la missione del progetto della Core già dai tempi della sua fondazione, che è quello di un'università siciliana a tutto tondo che non si ferma ad un'idea di provincia.